40 anni dopo, alla stessa ora di quel tragico 16 marzo, il Presidente della Repubblica depone la corona sulla lapide che ricorda l'icidio di Via Fani, un Presidente della Repubblica particolarmente commosso che resta in silenzio prima di andar via. I 40 anni del rapimento del leader democristiano coincidono con lo stallo post-elettorale del 4 marzo, una situazione delicata come quella di allora, seppur con mille differenze. Allora Moro si impegnò per il raggiungimento di un'intesa tra le due maggiori forze popolari del paese, la DC e il PC, il famoso compromesso storico, oggi al Capo dello Stato il compito di trovare una soluzione che potrebbe ricordare quella di 40 anni fa, attraverso un'intesa tra forze politiche non omogenee. I tempi sono molto cambiati, la storia politica in Italia è cambiata da quel 1978, ci sono sicuramente degli insegnamenti nel suo amplissimo magistero politico, ma adesso siamo ad una svolta della democrazia italiana e dobbiamo fare i conti con problemi assolutamente inediti. Per il capo della polizia, Gabrielli, gli anni di piombo non torneranno, ma non bisogna comunque abbassare la guardia. Anche se certe vicende, soprattutto di contrapposizione violenta, non devono mai mai essere sottovalutate.